Ciao amici e amicroni, bentornati a un nuovo, nuovissimo video di Matto Orlando Adi prepareremo le macchine di Halloween Servono dei fogli di gomma piuma colorati Avanzone, bianco, verde e nero Ti servono delle palline colorate però le potremmo cantare Ti servono degli occhietti Degli occhietti? Finti come quelli che hai sull'amore Ma no, i miei sono veri No, questi qui, questi qui sono finti Questi qui, ok, ci saranno anche quelli Eccoli, pronti Eccoli qui Dei battoncini pelodi Dei battoncini pelodi Eccoli qui Una colla Pizzatrice Formici Elastici Ditegniamo la nostra macchinina Prendete un pettello e disegnate la macchina Adesso tagliamo la macchina che abbiamo colorato Dopo l'abbè ritagliato la macchina Attacchiamo gli occhi finti Mamma mi aiuti? Le Le antenne Le antenne Ma è un alieno Farò una macchina tutta mia Ma bella fa Te mi filma Mio papà Bella fa Bella farò Vedere La macchina 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao amici. Grazie a tutti.